In questa vigilia della Pasqua, in questo Sabato Santo, a pochi minuti dall'inizio della veglia pasquale, desidero rivolgere il mio augurio più sincero di Buona Pasqua a tutti. L'ho fatto in questi giorni nel messaggio che sarà pubblicato sul nostro settimanale diocesano, il Corriere Cesenate, ma mi piace rivolgere personalmente anche a viva voce a tutti un augurio sincero di Buona Pasqua. Il mio pensiero ovviamente corre subito ai nostri fratelli e sorelle ammalati, quelli che sono soprattutto ricoverati in terapie intensive più gravi nel nostro ospedale e negli altri ospedali della diocesi. A loro rivolgo un augurio di pronta guarigione e preghiamo per loro. Insieme a loro i tanti fratelli e sorelle contagiati che vivono comunque nelle loro case, nei loro appartamenti, sono in quarantena, anche a loro rivolgiamo un augurio di pronta guarigione. Chiaramente, pensando ai malati, il pensiero corre anche agli operatori sanitari, ai medici che si spendono con tanta generosità. Alcuni hanno anche donato la vita per i nostri fratelli ammalati, per questo abbiamo un debito di riconoscenza nei loro confronti e sono un esempio di donazione, di generosità anche per noi. Purtroppo sono morte tante persone, sto pensando non solo all'Italia ma al mondo intero e questo virus colpito soprattutto le persone anziane. Per i morti chiediamo il riposo eterno. Non è stato possibile celebrare i funerali, anche questa è un'ulteriore sofferenza che si aggiunge a tutte le altre. Faremo sicuramente, è terminata questa emergenza, una celebrazione diocesana per i nostri fratelli e sorelle defunti. Il pensiero corre anche alle famiglie che sono chiuse nelle loro case, un po' costrette a inventarsi la vita. Insieme alle famiglie, i bambini che non vanno a scuola, ecco, e anche gli anziani. Sugli anziani voglio spendere un pensiero particolare perché forse è la categoria più debole, più fragile, penso le nostre case di riposo, in una in particolare dove si sono verificati alcuni decessi. Siamo loro vicini agli operatori, ai responsabili e a tutti gli anziani di questi casi di riposo. Abbiamo chiuse le chiese e purtroppo l'abbiamo fatto a malincuore, ma doverosamente l'abbiamo fatto per il bene, per la salute di tutti. E quindi il pensiero è rivolto ai sacerdoti, ai miei confratelli che ho sentito in questi giorni per telefono, dando loro la certezza della mia partecipazione, della mia presenza, incoraggiandoli comunque a mantenere vivo il rapporto con i loro fedeli e la fantasiano a loro non manca per poter realizzare questo impegno. Ieri sera non abbiamo celebrato la Messa Crismale per i motivi che tutti conoscete. Essendo una celebrazione diocesana ha senso la Messa Crismale se c'è la partecipazione della gente e di tutti i sacerdoti, ma la faremo, la rimandiamo a tempi migliori. Durante la Messa Crismale abbiamo sempre ricordato alcuni sacerdoti che celebrano particolari anniversari. Io li voglio ricordare qui, facendo loro un augurio da parte di tutta la Chiesa diocesana. Ricordo Don Vincenzo Fantini che celebra i 25 anni di Messa, Don Luciano Zanni, e Don Tisselli Agostino. Fanno il cinquantesimo di Messa. Poi ricordo Monsignor Biguzzi, Monsignor Giorgio Biguzzi che celebra 60 anni di Messa. Lo ricordo in modo particolare, l'ho addito a tutta la diocesi, invitando a pregare per lui per i 60 anni di Messa, anche perché davvero in questi ultimi tempi ha dato un contributo notevole e significativo alla vita della nostra diocesi. Insieme con lui celebrano i 60 anni Don Elvezio Motta e Don Gilberto Casperoni, anche loro, il nostro augurio. A Don Cresenzio Moretti l'augurio per i suoi 70 anni di Messa. Infine in questi giorni ho telefonato personalmente a tutti i sindaci del nostro territorio diocesano per dire loro che la Chiesa è vicina al loro impegno, che è un impegno grande, delicato e quindi ho fatto loro l'augurio di svolgere al meglio la loro missione, insieme a loro tutte le autorità civili che operano sul nostro territorio. E così, ecco, l'augurio più sincero rivolto a tutti. In questi giorni, come ho detto, ho scritto questo messaggio pubblicato in questa settimana sul Corriere dove dico che il buio che ci ha avvolti in questi mesi è grande, ma i mandorli sono in fiore. Anche quest'anno sono fioriti. Insieme ai mandorli tutta la natura proprio in questi giorni manifesta la sua freschezza, la sua viva città, la sua novità. Che sia questo davvero un segno per un augurio bello e sincero di buona Pasqua a tutti.